E' la terza? Ma qual è che si tira fuori? Allora quella che tiro fuori adesso è la bici E' la bici? Dai dai dai! E' la bici! Poi c'è un secondo terzo premio di consolazione Aspetta, non aspettiamo la musica! Aspetta, aspetta, aspetta! La musica! E' la mia scuola! Un po' dall'altro! Ah già è scabello eh! Vatti, vatti! Se perdo la scuola... E' ce l'ha infilata nella manica! Vado! Truccata! Ma non si sente! Ma non si capire! Non si capire quel paradrim! Vado! Ma non si capire! Ma non si capire! Ma non si capire! No! Il vento è il numero 5! Delle 27 di giugno! Non c'è! Non c'è! Nooo! Non c'è! Nooo! 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 Non c'è! Nooo! 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 Onome! Secondo premio, una luce da braccio. E' troppo basso per te sta bimbo. Dove sono i premi? Peppe, di Mata. Mata possiamo fare affari. Ma non è la tua. Lo specchietto, il proprio piombito. Andonella in stigia. Eeeh, ti ritiri, ti ritiri. Allora, per chi è malpensante, io lascio qua e si può controllare tutti i biglietti qua dentro che non c'erano solo come il suo, quello di Attonella e mi dicendo. Eeeh! Eeeh! Ti piacerebbe! Guarda! Guarda! Fai cambio! vào đây, Lincher, non scherzo! No, venga! Ma guardalo! Eeeh! Addirittura ha la maiolette! Grazie.